La finale del Grane Fratello Vip sembrava fosse così lontana, eppure il momento è arrivato. Nessuno si sarebbe aspettato una finale così, senza Soleil Sorge e al suo posto con Delia Duran. Al Grande Fratello Vip, si sa, puoi giocare da solista, ma è sempre meglio creare. Delle alleanze che sono in grado di salvarti nei momenti peggiori. Ora che anche i più forti hanno lasciato la casa, al GF Vip c'è tanta tensione. Nelle ore antecedenti alla finale il nervosismo aumenta, e tutti cercano la strategia più giusta per ottenere visibilità sperando nella tanto ambita vittoria. Delia Duran è più determinata che mai. È lei che sogna la vittoria più di chiunque altro e per raggiungerla è veramente disposta a tutto. Una clip dell'ultima ora, infatti, la riprende in una doccia a luci rosse insieme ad altri concorrenti. È chiaro che i concorrenti ormai sono disposti a tutto pur di far orientare le telecamere su di loro. Per me è Giucas alle due di notte che twerca sotto la doccia in mezzo alle nipotine, commenta ancora un'altra utente. Insomma, il pubblico non si sarebbe mai aspettato una clip del genere per questo trio. Ma è anche vero che nelle ultime ore tutto è concesso.